Si chiama Eli Comuni, acronimo di Elisa Comunicazione Unica, il progetto di completa decertificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino che prevede la realizzazione e la sperimentazione di un pacchetto di servizi volto all'integrazione tra gli uffici anagrafe sparsi sul territorio italiano. In buona sostanza si potrà accedere ai servizi anagrafe del proprio comune anche se ci si trova in un altro municipio d'Italia, capofila del progetto finanziato dalla presidenza del consiglio, dipartimento affari regionali turismo e sport e la provincia di Pescara che ha partner come il comune di Roma, la provincia di Teramo ed altri enti extra regionali. Il governo nel 2011 ha scelto la provincia di Pescara per l'attuazione di questo progetto, abbiamo partner importanti oltre che abruzzesi anche nazionali, il comune di Roma è partner del progetto e oggi presentiamo la realizzazione di questo sistema e iniziamo la implementazione in alcuni comuni di Abruzzo, due in particolare della provincia di Pescara, Moscufo e Colecorvino, quindi nei prossimi 15 giorni sarà possibile testare questa soluzione lì dentro, durante il mese di novembre poi questa soluzione sarà sviluppata in altri comuni. Il nostro obiettivo è portarlo entro la fine dell'anno in tutti i comuni della provincia di Pescara che vorranno farne richiesta che vorranno dare ai propri cittadini questa opportunità.